ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video oggi voglio parlarvi di cinema come avrete già visto dal titolo oggi parliamo di film dedicati ai pittori e non solo ovviamente voglio cominciare subito col dirvi che vi consiglierò tre film tre pellicole di vari anni quindi ci sarà un film del 1948 un film del 96 e uno del 2018 quindi molto recente iniziamo subito il primo film che voglio consigliarvi quindi che consiglio ai pittori ma non solo a loro quindi a chiunque sia appassionato d'arte e di pittura è il ritratto di jenny vi lascio un'immagine questo film è come dicevo prima del 1948 e vede protagonista jennifer jones che ricordiamo tutti nel ruolo di bernadette e con il quale vinse anche un oscar e joseph cotton magari lo ricordate per alcuni film di hitchcock come l'ombra del dubbio un capolavoro e magari ve ne parlerò in un altro video oppure lo scopone scientifico accanto a silvana mangano e e alberto sordi il film è tratto dall'omonimo romanzo di robert nathan appunto il ritratto di jenny in inglese the portrait of jenny e vediamo jennifer lorenz una parte della protagonista quindi questa bambina che poi diventa ragazzina e poi ragazza jenny jennifer di cosa tratta questo vorrei recuperare anche il romanzo perché il film mi ha mi ha folgorato quindi mi piacerebbe recuperare anche altri romanzi dell'autore di robert nathan vediamo un attimo la trama di cosa parla questo film un pittore in crisi e ben adams scusate e ben adams incontra un giorno una bambina che attira particolarmente la sua attenzione perché lo incuriosisce si ferma a parlare con lei e tornato a casa si sente ispirato da lei tanto che gli fa subito uno schizzo uno schizzo del suo volto il pittore riuscirà a far vedere questo schizzo alla signora spinney che praticamente è una mercante d'arte e lei stessa ne rimarrà soddisfatta e ne vorrà sapere di più quindi spingerà il pittore a cercare di nuovo questa bambina perché lo convincerà a ritrarla in un vero e proprio dipinto fortunatamente al giovane pittore capiterà spesso di incontrare di nuovo jenny questa bambina che piano piano sembra anche allo spettatore crescere a vista d'occhio ogni volta che il pittore la incontra quindi anche il pittore si convincerà a ritrarla prima di essersi accorto di esserne innamorato il dipinto che ritrae la ragazza ben presto sarà qualcosa di molto prezioso per il pittore perché l'intenzione del pittore che è un po' quella di ogni pittore in realtà che ha un po' lo scopo primario del pittore è quello di imprimere l'anima della ragazza sulla tela e cosa strana il pittore ci riesce ci riesce letteralmente perché una volta definito il dipinto una volta realizzato il ritratto della bambina jenny la ragazza scomparirà scomparirà così nel nulla riuscirà e ben a ritrovare la ragazza? non ve lo dico perché dovrete scoprirlo da soli perché veramente il film mi ha affolgorato proprio perché è molto avvincente ti prende fin dall'inizio perché c'ha questo quest'aura di mistero in tutta la storia e il personaggio di jenny è veramente un personaggio misterioso quindi la domanda principale è chi è jenny, chi è questa ragazza, chi è questa bimba che diventa subito ragazza e come mai attira così tanto l'attenzione del pittore anche in questo film viene appunto ribatito il concetto ormai diventato quasi banale ma che in realtà banale non è nel senso che viene detta sempre la stessa cosa riguardo ai pittori ma io credo sia una realtà e cioè quello il concetto che il pittore riesca a vedere di più di un comune essere umano comune tra virgolette ovviamente cioè che riesca a vedere oltre ma in questo caso il personaggio del film a qualcosa di irreale, di sovrannaturale quindi diciamo che il concetto qui viene sì ribadito però nello stesso tempo è come se l'autore volesse andare oltre questo concetto cioè il pittore addirittura riesce a vedere oltre il reale quindi addirittura ciò che effettivamente nessun altro può vedere il sovrannaturale proviamo a rifletterci insieme se volete recuperarlo questo film ripeto è un film del 48 quindi lo trovate in qualsiasi piattaforma streaming anche su youtube comunque perché è un film che ormai può essere trovato in ripeto in tutte le piattaforme proprio perché sono passati tanti anni e potete guardarlo legalmente e comunque è ancora in catalogo, è in commercio quindi sotto vi lascio il link all'acquisto del DVD quindi ve lo consiglio di nuovo Il ritratto di Jenny, Joseph Cotton e Jennifer Jones il secondo film che voglio consigliarvi è un film di Julian Schnabel anche il terzo film è un film di Julian Schnabel ma ne parleremo dopo quindi sto per consigliarvi due dei film migliori del regista il primo, il primo film di Schnabel del 1996 si intitola Basquiat il film tende a ripercorrere quasi tutta la vita del pittore americano, new yorkese Jean-Michel Basquiat e l'ultimo film che vi consiglierò è anche l'ultimo film di Julian Schnabel e poi lo vedremo intanto torniamo un attimo a Basquiat il film ripeto è del 1996 e vanta un cast di attori davvero incredibile come protagonista quindi nel ruolo di Jean-Michel troviamo un Jeffrey Wright perfettamente in parte io lo adoro specialmente in questo film è un attore bravissimo un attore di colore quindi proprio per entrare nella parte del protagonista new yorkese, americano anche lui molto giovane in questo ruolo e ripeto perfettamente in parte bravissimo ma nello stesso tempo non abbiamo soltanto Jeffrey Wright ma un cast che arricchisce questo film in maniera veramente straordinaria Gary Oldman mio amato Gary Oldman che in questo film diciamo che vesti i panni di Julian Schnabel stesso una versione un po' modificata del regista che rimane amico di Basquiat per tutta la vita e quindi diciamo che Gary Oldman interpreta un po' quello che dovrebbe essere un giovane Julian Schnabel accanto a Basquiat poi abbiamo Dennis Hopper addirittura David Bowie poi vi dirò chi interpreta un cameo di Christopher Walken insomma veramente un cast stellare dunque il film è una vera e propria biografia del pittore new yorkese inizia facendo vedere delle scene di lui da piccolo di quando dormiva per le strade sopra le panchine quindi appena scappato da casa comincia a dormire fuori casa sulle panchine come se fosse un ragazzo di strada vero e proprio e comincia anche la sua carriera tra virgolette perché non era a quell'epoca nei primi anni della sua vita un vero e proprio lavoro ma diventerà famoso come graffitista new yorkese e in quel periodo si attribuisce a se stesso attribuisce a se stesso lo pseudonimo di Seimo che se non ricordo male dovrebbe significare Seimold Shit cioè la solita vecchia merda insomma quindi ogni suo graffito era firmato con questo pseudonimo Seimo scritto Samo ovviamente il suo pseudonimo Seimo ben presto diventerà famoso come ho già detto cioè i suoi graffiti le sue massime le sue scritte sui muri firmate con questo pseudonimo diventeranno famosissime a New York e inaugureranno proprio il movimento il graffitismo new yorkese grazie a Basquiat col passare degli anni mi pare anche purtroppo a causa della morte di un suo amico graffitista Basquiat smette di fare il graffitisca e non ci torna più ma nello stesso tempo comincia a dipingere quindi non solo dipinge con i colori liquidi ma anche con materiali secchi quindi con pastelli e soprattutto le sue opere sono molto piccole dipinge su cartoncini, cartoline e dà vita a un altro movimento cioè quello dell'arte povera cioè un'arte un'arte rappresentata con pochi mezzi con mezzi appunto poveri cioè cartoncini fogli di piccole dimensioni e anche con materiali grezzi quindi ripeto pastelli grezzi senza vernice senza nulla quindi diciamo un'arte molto molto elementare solo che quest'arte e nel film è rappresentato in maniera fantastica attira l'attenzione di Andy Warhol Andy Warhol a quell'epoca già famoso incontra per la prima volta Jean-Michel Basquiat e indovinate un po' chi è l'interprete di Andy Warhol David Bowie in questo film David Bowie interpreta il re della pop art come succede questo incontro Jean-Michel si avvicina una sera in un locale dove ci sono appunto Andy Warhol e il suo agente Harry interpretato in questo caso da Dennis Hopper quindi un agente molto simpatico anche Andy ha questo modo di fare molto ironico in questo film e si ride nello stesso tempo anche se la vita di Jean-Michel Basquiat è molto tragica quindi è un film ironico e commovente allo stesso tempo veramente estruggente in certi punti Andy Warhol viene comunque attirato dall'arte povera di Jean-Michel e finisce addirittura dopo questo incontro per comprare alcune delle sue cartoline alcune delle sue piccole opere di arte povera da quel momento in poi Andy e Jean-Michel saranno inseparabili nel senso che nasce proprio un'amicizia fraterna l'uno non può fare a meno dell'altro veramente e nel film viene dato molto spazio all'amicizia tra Warhol e Basquiat da quel momento in poi però Basquiat ha questa fortuna cioè di incontrare un mercante d'arte che rimane folgorato letteralmente folgorato dai suoi dipinti perché dopo dopo l'arte povera Jean-Michel comincia a dipingere seriamente su tela su fogli grandissimi su veramente su dei supporti giganteschi ma anche ripeto anche su pannelli di legno sulla tela e soprattutto qual è la caratteristica fondamentale della pittura di Basquiat che Basquiat non ha mai rinunciato alle sue massime alle sue frasi quindi riprende il lavoro di Seimo del vecchio Seimo e insieme alla pittura astratta inserisce anche queste frasi queste massime ed è lì che inizia la sua fortuna ripeto viene contattato da questo viene avvicinato non contattato scusate viene avvicinato da questo mercante d'arte che rimane folgorato da un suo dipinto e dice io ti lancerò ti farò diventare una star quindi in quel momento anche in quel periodo anche Basquiat comincia a diventare famoso e l'opera sia di Basquiat che di Andy Warl sarà diciamo quella più più importante di quegli anni perché sia Warl che Basquiat cominceranno a collaborare anche nella realizzazione di alcune opere qual è il problema del film perché vi dico che è comunque una storia molto struggente e commovente il problema del film per chi già conosce Basquiat ovviamente l'avrà già capito ma per chi non lo conosce ve lo sto per dire cioè che Basquiat fa uso di droghe pesanti fin da quando è ragazzino e si avvicinerà quasi subito all'eroina fino a diventarne assolutamente dipendente quando è ragazzino comincia ad assumere droghe molto forti molto pesanti come gli acidi lsd ma subito arriverà il momento dell'eroina dalla quale Basquiat non si staccherà mai più quindi fino alla fine della sua vita breve purtroppo perché Jean-Michel morirà di overdose di eroina all'età di soli 27 anni quindi questo è anche il finale del film ma prima c'è un'ulteriore tragedia perché Basquiat si si abbandona completamente all'eroina questo succede alla morte del suo migliore amico del suo amico fraterno di una vita alla morte di Andy Warhol durante questa scena che fa rimanere Basquiat e lo spettatore di Sasso folgorato c'è un momento veramente ripeto struggente una scena stupenda anche per la colonna sonora dove Basquiat rivede il suo amico Andy nei filmati che avevano girato durante la loro amicizia e piange straziato dal dolore quindi io vi consiglio questo film perché veramente a me c'è stato un periodo alla fine degli anni 90 proprio che lo vedevo tantissimo ero piccola ma nello stesso tempo lo vedevo continuamente e proprio perché è un film molto molto potente e l'occhio di Schnabel secondo me fin da questo film che è il primo film come regista perché Julian Schnabel dovete sapere che è un pittore pittore stimato ormai in tutto il mondo ma questo film segnò la sua carriera di regista perché come primo film da regista fece molto molto successo quindi ripeto l'occhio di Schnabel cerca cerca nel profondo di Basquiat e ne esce fuori veramente una pellicola toccante e straziante oltre che divertente perché ripeto si ride molto quindi ve lo consiglio ancora Basquiat con Jeffrey Wright Gary Oldman David Bowie e Dennis Hopper regia di Julian Schnabel vi lascio l'immagine l'ultimo film che voglio consigliarvi come vi ho già detto prima è l'ultimo film di Schnabel del 2018 ovvero Van Gogh sulla soglia dell'eternità che ha come interprete principale quindi che ha come protagonista appunto Vincent Van Gogh impersonato dal fantastico Willem Dafoe qui veramente intensissimo vincitore anche della Coppa Volpi di cosa parla questo film voi direte un'ennesima un'ennesima un'ennesimo adattamento della biografia di Van Gogh della vita di Van Gogh no in realtà qui Schnabel ha tutto un suo modo di vedere la vita di Van Gogh e ne esce fuori veramente una pellicola fantastica molto introspettiva infatti Schnabel usa molto la camera a mano quindi la macchina da presa come se fossero gli occhi di Van Gogh e a loro volta sono anche i nostri occhi quindi rappresentano i nostri occhi quindi noi vediamo con gli occhi del pittore tutto quello che lo circonda ma la tematica più importante in questo film è proprio quella che caratterizza di più la storia della vita la storia di questo pittore di Van Gogh e cioè la sua morte finora abbiamo sempre ritenuto Van Gogh un pazzo che è morto suicida ok io ve l'ho già detto nella prima puntata della mia rubrica libri per pittori e non solo cioè che Van Gogh non era un pazzo ma era semplicemente malato e non in tutta la sua vita ma negli ultimi anni di vita gli era stata diagnosticata una forma molto particolare di epilessia quindi quando lui aveva quegli attacchi di cosiddetta follia erano semplicemente degli attacchi epilettici tanto che se voi leggete ripeto le lettere a Teo di Vincent Van Gogh lui era perfettamente consapevole della sua malattia e voleva guarire quindi non era un folle no lui si rendeva conto di essere malato ma in quei momenti ovviamente non capiva più niente poi questo film tratta appunto questa tematica il regista non è convinto che Van Gogh sia un suicida ma che lo abbiano ucciso questo come viene come viene visto all'interno del film molto semplice viene ripresa una teoria dei primi anni 2000 dove due scrittori importanti dei americani che vi avevo anche citato l'altra volta cioè Stephen Knife e Gregory Smith vincitori anche del premio Pulitzer che appunto sviluppano nella loro biografia su Van Gogh questo punto cioè che Van Gogh non fu un suicida ma venne ucciso da chi venne ucciso? da un ragazzino un adolescente che stava giocando con una rivoltella io sono molto d'accordo su questa teoria perché sia nel film sia nei libri di testo dove effettivamente siamo abituati a studiare la vita di Van Gogh non viene mai fatto riferimento a una rivoltella che possedeva il pittore no Van Gogh non possedeva nessuna pistola quindi non fu Van Gogh a sparare a se stesso anche perché si parla anche dell'angolazione della pallottola una persona che vuole suicidarsi si punta la pistola allo stomaco e il colpo ha una traiettoria dritta dritta verso lo stomaco invece la pallottola che uccise Van Gogh aveva una traiettoria obliqua quindi anche lì vediamo che fu un colpo accidentale quindi nel finale di questo film vediamo questa scena realizzata da Schnabel dove due ragazzini uno con la rivoltella in mano spara accidentalmente un colpo che colpisce il pittore mentre era solito dipingere all'aria aperta e questo lo sappiamo tutti dipingeva a un plenare come gli impressionisti quindi vediamo questa parte finalmente davanti ai nostri occhi realizzata da un regista e cioè la prima volta per la prima volta vediamo Van Gogh che non si spara alla testa o allo stomaco ma che viene colpito quindi viene assassinato perché non dice nulla perché ovviamente il pittore in quel periodo passava una vita d'inferno non aveva soldi era malato quindi vede diciamo la morte con una specie di liberazione e non vuole far ricadere la colpa sui bambini il pittore si trascina verso casa senza dire nulla a nessuno e anche qui cioè se una persona si vuole suicidare si punta la testa si fa fuori dopo qualche minuto invece no Van Gogh anche nelle sue lettere a Theo descrive la sua agonia ci mise molte ore prima di morire addirittura diede tempo al fratello Theo di venire a casa sua e di piangere la sua morte di accompagnarlo verso l'altro mondo e di parlare per l'ultima volta con il fratello quindi ripeto questo film secondo me è molto importante proprio perché viene messa in scena per la prima volta questa questa teoria dell'assassinio di Van Gogh bene ragazzi quindi io vi consiglio anche l'ultimo film di Julia Schnabel e cioè Van Gogh sulla soglia dell'eternità del 2018 questo film al momento non è più in commercio mi sembra strano perché tipo fino al mese scorso era in catalogo ma è disponibile su molte piattaforme streaming quindi vi lascio qualche link dove potete guardarlo e niente io finisco qui questo video spero che il video vi sia piaciuto e spero di avervi un po' ispirato con questi titoli ovviamente ripeto sotto nell'info box troverete tutti i link ai film citati ai social dove potete trovarmi e niente se vi è piaciuto il video lasciate un bel like e ovviamente iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima e noi ci vediamo